L'ufficialità delle dimissioni da presidente del Consiglio di amministrazione da parte di Marco Campione è una specie di sigillo sulla vicenda che ha monopolizzato la cronaca di questa settimana. Lo stesso ufficio stampa di Girgentiacqua e S.P.A. ha fatto sapere che il C.D.A. che si è riunito ieri poco dopo pranzo ha ringraziato Campione per il lavoro svolto e nominato presidente pro tempore l'avvocato Diego Galluzzo. Rimarrà in carica almeno fino alla data della prossima assemblea dei soci e già convocata però tra pochi giorni ossia lunedì 3 dicembre. C.D.A. che ha poi confermato di avere deciso di proporre ricorso al TAR contro l'interdittiva antimafia del prefetto Caputo. Oggi è la giornata in cui i sindaci dell'ATI hanno preso atto ufficialmente della negazione della certificazione antimafia da parte del prefetto a Girgentiacque. Un fatto che se da un lato potrebbe in qualche maniera addirittura accelerare le procedure di risoluzione del contratto tuttora in corso dall'altro non ha impedito nei giorni scorsi a Francesca Valenti in persona di esprimere la propria preoccupazione rispetto all'ipotesi che senza una posizione regolare in base alla legge sugli appalti, ancorché in attesa del pronunciamento dei giudici amministrativi, la società che gestisce le risorse idriche pubbliche possa venire considerata fuori gioco dall'oggi al domani. Una vicenda che metterebbe in evidenza il problema della mancanza di un piano B che permetta sia ad un servizio di tale portata di poter regolarmente continuare a funzionare e in tale scenario che si inquadra il possibile approdo d'Aragona di uno o più commissari di nomina prefettizia che possano garantire una governance diversa nella continuazione provvisore della gestione del servizio in attesa del corso degli eventi, comprese sentenze giudiziarie e altri percorsi tuttora aperti. Ma la questione Girgentiacque dopo la presa di posizione di Claudio Fava che ha convocato la Commissione regionale antimafia in prefettura per il prossimo 13 dicembre ha visto un'altra iniziativa politica, ossia quella della Presidente della Commissione Ambiente, Giussi Savarino che ha convocato un'audizione da Presidente dell'ATI Francesca Valenti per martedì prossimo proprio al fine di fare il punto sulle criticità del servizio idrico nell'Agrigentino anche alla luce dell'interdittiva antimafia contro Girgentiacque. Non è solo l'ATI che la Savarino ritiene utile dover sentire ma anche il super commissario per le acque e la depurazione Enrico Rolle, ufficio romano presso il quale sono tuttora bloccati alcuni progetti peraltro tutti finanziati che prevedono investimenti importantissimi sul fronte della realizzazione del completamento come nel caso di Sciacca di reti fognanti e depuratori. C'è il timore naturalmente che i problemi che si stanno verificando sul gestore idrico si allarghi una dismisura anche se è noto da tempo che Enrico Rolle ha già risolto questo problema visto che ha avvocato al suo ufficio progetti che riguardavano proprio il settore della depurazione nel tentativo di resistere alla maxi sanzione già inflitta dall'Unione Europea all'Italia proprio sul fronte dei ritardi nell'avvio dei lavori. Un tema dunque aperto sul futuro incombono però troppe incertezze nessuno infatti può azzardare previsione di sorta e di tutta evidenza anche che l'ente gestore continuerà a cercare di resistere sia all'interdittiva antimafia sia al tentativo dei sindaci di risolvere il contratto.